Le trazioni arch body to hollow body. Vediamo insieme oggi una routine che mette insieme un po' tutte queste cose e ti permette di capire al meglio, sensibilizzare il tuo corpo rispetto alle varie traiettorie possibili e quindi anche di conseguenza alle varie diverse attivazioni, che poi ovviamente nel tempo hanno finalità, obiettivi differenti. Però vanno comunque capite perché un calistenico deve essere trasversato. Ragazzi sezioniamo un attimino la routine, vediamo il primo movimento arch to arch body, quindi mantenendoci sempre su una linea di piombo sotto la sbarra. Il secondo pezzo della routine, la seconda ripetizione, arch to hollow body. Notare la scodatina del drago quando dalla hollow body mi devo rimettere a ritornare a braccia distese, ritornando in arch body. Ultimo pezzo della combo, mezza squadra, quindi hollow body to hollow body. E questa era la routine, io quindi ti consiglio sempre di provare, sensibilizzarti, indipendentemente da quale sarà la tua tecnica preferenziale, secondo anche quelli tuoi obiettivi, proprio per avere una padronanza completa del tuo corpo. Bene, con questo è tutto, se c'è qualcosa che vuoi chiedermi fammelo sapere qua sotto nei commenti, iscriviti al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!